Grazie, buonasera a tutti. Quindi non c'è scaramanzia in realtà, visto questo che dicevano anche in studio sulla maglia. No, 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 insomma, abbiamo rimesso la stessa maglia nella curva, è successo e insomma siamo ritornati subito alla vittoria, quindi siamo contenti. Noi abbiamo in studio Ciro Ferrara che da inizio campionato non proferisce una parola, scudetto. Anche da questo punto di vista scaramanzia ormai messa all'angolo, si può dire. Ciao, ciao, no, io mi sono risposto, non è che il Napoli ha già vinto lo scudetto, attenzione, io dico che il Napoli alla fine del campionato vincerà con lo scudetto. Se lo posso dire, poi ovviamente fate tutte le scaramanzie per l'amore di più, questo è un mio pensiero da un po' di tempo a questa parte, quindi lo rivolgo al capitano che non può dire una roba del genere, ovviamente, lo capisco. E quindi insomma gli auguro il meglio, devi sapere che quella fascia di capitano, oltre a Diego, l'hanno indossata dei grandi giocatori nel Napoli. E quindi tipo Ciro Ferrara... Terzini destri... Cosa si provo? Ecco, la domanda è... Cosa si provo? E' ereditata. Cosa si provo? E' ereditata. Si sente, è bella pesante questa fascia. Bella pesante. No, comunque, ritornando al discorso di prima, sappiamo che abbiamo una grandissima opportunità quest'anno, insomma, è inutile girarci intorno, però la squadra è super concentrata, sa che mancano tantissime partite, tutte le partite sono veramente difficili e quindi dobbiamo continuare così, continuando a lavorare e poi insomma vediamo dove ci porterà questo campionato, però l'importante è continuare a lavorare in questo modo che ci sta dando grandi frutti. Ma il calendario delle ultime sei di campionato, tu lo sai a memoria? No, è troppo la prossima partita. Ma perché noi sì, facciamo i conti quando c'è, contro chi giocano, che giorno di aprile, di maggio... Tu le sai tutte. Certo. Sì, vabbè, le ultime, perché è la previsione che facciamo tutti, nel caso dovesse succedere, quando succederà? Andrea, Stefano, Di Lorenzo. Buonasera Di Lorenzo, anche io mi espongo. Secondo me sei il miglior terzino destro del campionato già da un po' di tempo, quest'anno lo stai diventando sempre di più, perché anche stasera hai trovato un assist con una palla filtrante bellissima, quindi complimenti. Io vorrei tornare sul discorso della fascia, perché questa è la grande novità stagionale. Cos'hai pensato, cos'è scattato nella tua testa e quale missione ti sei dato nel momento in cui ti hanno consegnato la fascia di capitano del Nacolo? Ma intanto ti ringrazio per i complimenti e sappiamo tutti che abbiamo passato un'estate un po' particolare per queste partenze eccellenti e quindi l'obiettivo era subito quello di formare un nuovo gruppo e quando il mister mi ha dato la fascia sono stato subito super onorato e ho iniziato a lavorare in questa direzione. Sto cercando ogni giorno di meritarmela e spero di continuare così. stiamo facendo veramente un grande campionato e speriamo tutti di arrivare in fondo a questo campionato. Basta, va bene, va bene. Comunque non si può neanche più considerare un terzino, parliamoci che era vero. Perché vieni dentro al campo, gioca... Non è come facevi il terzino a te, quello è sicuro. Sì, esatto. È cambiato un po' il ruolo. Il terzino moderno di adesso ha tutte le caratteristiche come quelle di De Lorenzo, cioè devi essere completo in tutto, assist man, addirittura gol col piedi di testa. Ti salutiamo chiedendoti a che ora hai mandato il messaggio di auguri a Kvara Scheglia sulla chat di squadra. Perché Spalletti prima... Non sono stato il primo ma stamattina presto, appena alzato, insomma siamo contenti di quello che sta facendo in campo, ma soprattutto al ragazzo veramente che merita e quindi speriamo tutti che continui così. Grazie mille.